Allora, quello di cui parliamo oggi è il saggio sull'origine della diseguaglianza tra gli umani, saggio del 1755 che risponde a un quesito dell'Accademia, Brousseau lo scrive, le tesi larghe e linee le conoscete tutte nel senso che lui dice sostanzialmente viene fuori lì il buon selvaggio, nel senso che viene fuori l'idea che l'uomo è perfetto allo stato di natura e diventa cattivo per colpa della società e della tecnologia e a questo punto diventa un essere sfigurato rispetto alla sua dimensione originaria. Credo che sia un errore mostruoso, nel senso che l'umano diventa umano proprio nel momento in cui si distingue dall'animale non umano, non per delle strane, peculiari cose, per esempio la massa cerebrale. I delfini hanno un cervello più grosso del nostro e oltretutto hanno due misferi cerebrali che lavorano autonomamente, che sarebbe una cosa bellissima. Puoi dormire con mezzo cervello, stare sveglio con l'altro. Chi non desidererebbe una cosa di questo genere? Però perché noi siamo qui a parlare dei delfini invece che i delfini fare una conferenza e noi parlando di quelli lì che se ne stanno in acqua, perché anche noi eravamo in acqua e non sono cretini come sembra, il punto fondamentale è che il delfino è rimasto in acqua. E se tu rimani in acqua non puoi per esempio accendere dei fuochi, non puoi costruire delle case, non puoi prendere degli appunti, scrivere dei libri, tutte cose che non si possono fare in acqua e a questo punto è anche difficile parlare in acqua e quindi tutte queste caratteristiche che sono le proprietà della forma di vita umana noi le riceviamo dalla tecnica, non è qualcosa che sta fuori e vedremo anche questo qualcosa che ci domina, ci schiavizza. Tutto questo mondo un po' da club mediterranei per cui ci sarebbe tutti dei selvaggi, felici, contenti e non lo dicevano soltanto allora quando andavano a vedere i Kanaki o gli indiani in Canada eccetera. Lo dicono ancora adesso c'è un antropologo, Sussman, che è un sudafricano che ha studiato una popolazione di cacciatori raccoglitori che ancora esiste in un deserto lì in Sudafrica e ha scritto un libro dicendo che non stanno affatto male perché si divertono un sacco, non lavorano, problemino per esempio muoiono 40 anni a 35 perché gli umani questo quindi adesso voglio dire quanti di noi se fossimo cacciatori raccoglitori sarebbe ancora qui a discutere di delfini e di umani e quindi quelli che teorizzano una cosa tipo la decrescita felice per esempio non considerano come è bastato nell'epoca in cui la Banca Centrale Europea ha messo sotto controllo la Grecia, il sistema sanitario è stato sottofinanziato, la vita media si è ridotta di due anni quindi rendiamoci conto questo per avere l'idea di che cos'è la decrescita felice, però tutta questa cosa della decrescita felice dell'umano perfetto all'origine e poi corrotto è la versione ovviamente secolarizzata del peccato originale perché l'uomo era perfetto perché l'aveva creato Dio a propria immagine e somiglianza e poi ha fatto qualche guaio e a questo punto ha cominciato a corrompersi, già nella storia originaria peraltro c'è il fatto che la corruzione è venuta dal sapere, cioè dal desiderio di sapere, cioè Dio per mettere in termine un po' da film gangsteristico, Dio ha cacciato Adamo e Deva perché volevano sapere troppo e quindi così andava. La secolarizzazione, quindi noi pensiamo tutto questo come una cosa lontana, nessuno crede che davvero noi siamo stati creati con uno che soffiava su della terra o robe di questo genere, però la secolarizzazione di questa convinzione è quella che troviamo in Rousseau, nel senso che l'uomo in natura e non più come che madre natura poi protegge vuol bene a tutti eccetera, abbiamo visto col virus e che il punto c'è la virtù e la scienza sublime delle anime semplici, dice sempre Rousseau, quindi anche lì le persone in società tradizionali vivono benissimo eccetera e poi è sempre il progresso che porta al male. Ora, intendiamoci, è vero che noi non troveremo mai un coccodrillo che si lamenta dei giovani d'oggi per dire, dei coccodrilli d'oggi, questo semplicemente perché l'evoluzione degli organismi è l'evoluzione naturale, quindi chiede moltissimo tempo, di per sé gli organismi non hanno mai degli shock culturali, mentre l'evoluzione tecnologica va molto più veloce e quindi a questo punto cambiano molto di più le cose, si creano dei disagi, si sopravvalutano i disagi rispetto agli agi e a questo punto si costruisce l'immagine di un progresso che è la catastrofe, mettendoci dietro anche un po' di residuo dell'età dell'oro, ma appunto se per ipotesi noi vedessimo un leone di duemila anni fa non credo che sarebbe molto diverso da un leone di adesso, se vedessimo un uomo di duemila anni fa sarebbe diverso perché vestito diverso, parla diverso, ha usi e costumi diversi dai nostri eccetera, cioè tutte peculiarità tecniche non naturali, perché invece per il resto questo è il quadro generale. Ma veniamo ai testi, testo che in realtà questo è il Russo, Voltaire il 30 agosto del 1755 riceve, accusa ricevuta meglio da parte di Russo del suo libro e dice ho ricevuto signore il vostro libro contro il genere umano, ve ne ringrazio, voi piacerete agli uomini cui dite la verità su di loro e non li correggerete. Voi dipingete con dei colori proprio veri gli orrori della società umana, la cui ignoranza e debolezza promettono tanti dolcezze, cioè l'ignoranza di questi dolori e cose che lui rivele invece se non li consideriamo chissà quali delizie. Non si è mai adoperato così tanto spirito a volerci rendere delle bestie, come l'opera di Russo è tanto spirito. Vi ha voglia di marciare, di camminare a quattro zampe quando si legge la vostra opera. Tuttavia, come dal momento che ho più di 60 anni e ne ho perso l'abitudine in un sacco di tempo, sento disgraziatamente che mi è impossibile recuperare l'abitudine di camminare a quattro zampe e lascio questa andatura naturale a quelli che ne sono più degni, più degni che lei e che me. E non posso neanche, e qui c'è il buon selvaggio, imbarcarmi per andare a trovare i selvaggi del Canada, primariamente perché le malattie a cui sono condannato mi rendono un medico europeo necessario. E poi, anche perché tanto la guerra è già arrivata là, perché era il periodo in cui c'era la guerra tra gli inglesi e i francesi nel Nord America. Quindi cosa sta dicendo? E' importante notate, vi è in voglia di camminare a quattro zampe. Questo tocca un elemento fondamentale dell'essere umano, perché l'essere umano è uno dei pochi animali che ha preso una scelta definitiva per la stazione retta. Non troverete mai uno scimpanse con un bastone da passeggio, perché lui può sempre ricominciare a camminare a quattro zampe, mentre l'uomo non può. E questo cambia moltissimo le cose, perché fa sì, per esempio, che diventi possibile la comunicazione. E' difficile comunicare a quattro zampe. C'è anche il problema che, oltretutto, qualunque spazio comune dovrebbe essere raddoppiato, perché a quattro zampe si occupa molto più spazio che stanno seduti su una sedia o avendo la stazione retta. Infatti, continuo a ricordare l'importanza di quell'immagine che è data dall'indovinello della Sfinge di Dipo, quando dice qual è quell'animale che cammina la mattina da quattro zampe, appunto, poi due, poi tre. E' significativo, perché indica il supplemento tecnico della fatti specie bastone come un elemento definitorio della natura umana, cioè fa parte della natura umana l'adoperare un supplemento tecnico, bastone, pelliccia, tetto, qualunque cosa. E' lì che comincia l'umano. Prima c'è soltanto un animale molto disadattato. Quindi lui scrive sostanzialmente questo, Voltaire scrive a Rousseau, Rousseau non se la prende in apparenza perché risponde e tocca a me, signore, ringraziarvi su tutto offrendovi l'abbozzo delle mie triste fantasie, cioè quel libro lì. Non ho potuto fare nient'altro che un presente, che un regalo a un grand'uomo come lei. Quindi quello gli dà del cretino e lui invece ringrazia. Poi le cose vanno, evolvono evidentemente, perché qualche traccia gliela doveva aver lasciata questa lettera. Il 17 giugno 1760, cioè un po' d'anni dopo, Rousseau scrive a Voltaire, io non vi amo affatto, signore. Mi avete fatto tutti i mali che potevano essere più dolorosi per me, a me, vostro fedele discepolo e entusiasta. E poi qui entra in campo un elemento caratteriale tipico di Rousseau che è la paranoia. Vi odio perché voi l'avete voluto, ma vi odio quasi che fossi l'essere più degno di amarvi che voi avreste mai potuto avere. Un giro abbastanza complicato, cioè vi odio. Vi odio per colpa vostra e oltretutto vi odio tanto peggio in quanto sarei stata la persona più degna di amarvi, sono il migliore di tutti e quindi vi odio perché l'avete voluto voi, è colpa vostra eccetera. Molto diverso rispetto a... Qui si aprono due elementi. Un elemento è appunto a cosa si riferiva, ve l'ho già detto in grosso all'inizio, si riferiva appunto a questo discorso per cui tutto nell'uomo viene degradato dalla tecnica che ogni, non solo la tecnica ma anche dalla scienza, dice se noi andiamo a cercare l'origine di ogni scienza ci troviamo sempre qualche difetto, per esempio dice che la geometria è nata dall'avidità, uno si chiede perché la geometria sia nata dall'avidità e si scopre che effettivamente sembra che la geometria si sia sviluppata a un certo punto molto fortemente in Grecia per la necessità di ridefinire i pezzi di campo, i possedimenti eccetera. Però lui va al punto e dice la geometria è nata dall'avidità e tutto ha delle origini sordide. Quindi lui si pone come si può conoscere l'origine della disuguaglianza fra gli uomini se non si comincia dal conoscere gli uomini stessi e come l'uomo potrà riuscire a scorgersi, quale l'ha formato la natura, quindi questo è il presupposto, è la natura che ha fatto l'uomo tal quale, siamo nati tutti parlando francese come lui o l'italiano come noi, infatti già calzati e vestiti come si dice, attraverso tutti i cambiamenti che succedersi dell'età e delle cose ha voluto produrne la costruzione originaria, quindi sfigurando questa immagine originaria che era quella dell'uomo. Allora questo è bisogna restaurare l'uomo nella sua figura originaria, qual è il vero uomo, l'uomo perfetto, l'uomo allo stato di natura. E qui interviene l'elemento paranoico perché Rousseau è convinto che quell'uomo esiste ed è lui. Così, pensate la captazio malevolenze con cui inizia le confessioni. intraprendo un'opera che non è mai sta, che non ha nessun esempio precedente e la cui esecuzione non avrà alcuni imitatori. Voglio mostrare ai miei simili un uomo in tutta la sua verità di natura. E quell'uomo sono io. Qui si sente veramente il vento dell'ara della follia, poi all'apertura di un libro, quindi già sono tutti ben disposti. Altre frasi così che vi risparmio, però i pezzi più belli, proprio l'inizio. E dice che la tromba del giudizio finale suoni quando vorrà. Io verrò con questo libro alla mano a presentarmi di fronte al giudice sovrano. E che tutti guardino, leggano eccetera, parlino anche male di me perché lui era ossessionato da questa cosa qua, ma sappiano che ognuno di loro guardi al proprio cuore con la stessa sincerità. E una volta che abbia guardato al proprio cuore con la medesima sincerità con cui io guardo al mio cuore nelle confessioni, mai oserà dire io fui migliore di quell'uomo là. Cioè, uno dice fantastico, lo compro, lo prendo, me lo dia. Cioè, uno che inizia un libro così, dicendo banda di bugiardi, corrotti, degenerati, c'è un solo uomo sulla terra, sono io. Voi non riuscirete mai a fare niente di neanche remotamente simile a quello che faccio io, arrangiateli. E visto che era un paranoico, poi dopo addirittura si configura con una specie di fantasia funebre la cosa che anche se tu sarai il mio peggior nemico, ti prego di non distruggere questo libro che è una testimonianza sublime dell'umanità, eccetera. Questo è le confessioni. Poi, che Gregaldo die ottingganno appunto, cioè lui che ti dice che lui è l'uomo allo stato di natura, tutti gli altri sono degli ipocriti, tutto il resto è sbagliato e come sarà venuto in mente che lui è l'unico uomo allo stato di natura. È un caso interessante. Oltretutto poi credo che abbia scritto 12.000 pagine in vita sua. Uno, il buon selvaggio, 12.000 pagine, ha scritto di tutto. Va a capire. Nelle fantasie del passeggiatore solitario, la prima passeggiata inizia di nuovo così. Eccomi quindi solo sulla terra. Non avendo più alcun fratello, prossimo, amico, nessun'altra società che me stesso, il più socievole, il più amante degli umani, ne è stato proscritto da un accordo unanime. E ti ci credo. Perché se tu dici di essere l'unico, il migliore, eccetera, 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 quale potrà mai essere il risultato se non quello di essere proscritto. Anche, per esempio, David Hume, che era noto per il suo buon naturale, per il suo buon carattere, a un certo punto accolse in casa Rousseau, durante qualche traversia, e dopodiché l'ha cacciato via, non ne poteva, cioè lui che sopportava tutto, qualunque cosa, Rousseau l'ha trovato insopportabile e qui abbiamo, ne abbiamo le prove. E poi c'è anche una certa forma di dogmatismo, sapete come inizia il contratto sociale. È una cosa meravigliosa perché dice l'uomo è nato libero ed è dovunque in catene. Coloro che si credono padroni degli altri ne sono ancora più schiavi degli altri, quindi quanto più ti credi più ad uno e tanto più. Com'è successo questo cambiamento? Lo ignoro. Allora, giustamente De Maestro, per esempio, commentando il contratto sociale, ha detto frasi del genere qualificano un uomo, una frase del genere basta qualificare, forse è l'assunto che è sbagliato, non è che l'uomo nasce libero e è dovunque in catene. L'uomo nasce in catene necessariamente perché l'animale umano quando è piccolo ha bisogno, sono catene, fasce, cose, girelli, eccetera, eccetera, eccetera. E poi se è andata bene, se è avuto fortuna, se è stato virtuoso e studioso, forse diventerà libero, ma invece pensare che, appunto, è noto il fatto che se c'è un animale dipendente, strutturalmente dipendente, questo è l'animale umano, perché un gatto a quattro mesi è completamente indipendente, un umano a quattro mesi non lo è affatto, ma non è neanche a 40 anni, neanche a 80, anzi, peggio. E dunque, immaginare, per esempio, un gatto dipendente dallo sguardo dell'altro, cioè mi ha guardato così. Un gatto, cosa gli importa se uno ha guardato storto o non gli ha rivolto la parola? Al gatto gli importa assolutamente niente, gli importa soltanto del kit e cat, quindi il punto è implausibile. Quindi, qui possiamo, riconducendoci al camminare a quattro zampe, da una parte ritornare alla sindrome, cioè ritornare alla paranoia, cioè a questa idea di essere l'unico essere umano di natura. Tutti gli altri sono falsi, tutti gli altri sono corrotti, tutti gli altri sono insinceri, il che lo porta poi a dire delle cose senza senso. Tipo, per esempio, scrive, ma convinto che l'amore di una madre non si surroga mai, e lui ha mandato tutti i figli al brefotrofio. Notate, parlavo della madre e non del padre, ma comunque un minimo di sensibilità alla cosa, sembra un po' la Serracchiani stamattina, ieri insomma, che diceva che le donne sempre un passo indietro, e lo dice un premier donno, va a capire. Insomma, quindi c'è una forma di scotomizzazione dell'aspetto paranoico. Dall'altro invece c'è un fenomeno più interessante che propongo di chiamare sindrome di Rousseau, nel senso che è la sindrome più diffusa, tuttora diffusissima all'interno del nostro mondo. Cioè l'idea che appunto noi siamo da una parte padroni della natura, e quindi cattivi perché abbiamo tormentato la natura, eccetera, che si vendica, e dall'altra schiavi della tecnica, quindi anche relativamente poco colpevoli della nostra cattiveria perché maltrattiamo gli animali, però a nostra volta siamo maltrattati dagli apparati tecnici. C'è intanto da notare una cosa. È curioso come, proprio in questo testo sul saggio sull'origine e la differenza fra gli umani, ci sia un momento in cui Rousseau fa un elogio dell'imbecillità perché l'imbecillità è essere più vicino alla natura. È una ragione molto specifica e tecnica perché in bakugum l'origine di imbecillo vuol dire senza bastone, appunto senza supplemento tecnico. Però comincia a lodare il tentativo di certi buoni selvaggi di essere ancora più imbecilli di quello che sono rendendo imbecilli i figli. Sembra come? Con un apparato tecnico. Sentite questo. Sarebbe triste per noi dover riconoscere che questa facoltà distintiva e quasi limitata dell'uomo, cioè il progresso e l'intelligenza, la sorgente di tutte le sventure dell'uomo e che essa è con la forza del tempo e essa che con la forza del tempo lo trae da quella condizione naturale nella quale egli passerebbe giorni tranquilli e innocenti ed è essa che facendone di secolo in secolo sviluppare l'intelligenza e gli errori, i vizi e le virtù, a lungo andare lo rende tiranno di se stesso e della natura. Quindi padroni della natura, schiavi della tecnica. Sarebbe orribile doverlo dare come essere benefico colui che per primo consigliò agli abitanti delle rive dell'Orinoco l'uso di quelle assicelle che essi applicano sulle tempie dei loro bambini e che garantiscono loro almeno una parte della loro imbecillità e della loro felicità originaria. Allora quindi devi prendere degli apparati tecnici, cioè delle assicelle, per rendere cretino tuo figlio e quindi ripristini, visto che c'è fra le varie disgrazie della natura umana, ce n'è una sola veramente grande che è quella che la natura umana ha la tendenza al progresso, allora no, devi con un apparato tecnico regressivo, cioè schiacciando il cervello, renderlo imbecille e così non cambiamo più di tanto. Tra l'altro, notate, la profonda inverosimilianza di tutto questo lo si può fare con una specie di controfattuale, cioè immaginate qualcuno che vi dice che le macchine pure e innocenti popolavano il mondo, felici e incuranti di tutto, poi vennero gli uomini che cominciarono a corrompere le macchine trasformando gli strumenti di distruzione, di guerra, di cose, ma ti pare? È chiaro che le macchine fanno quello che fanno perché sono gli umani che chiedono alle macchine di far questo, invece no, in questa rappresentazione appunto noi siamo, ripeto, padroni della natura e schiavi della tecnica. Padroni della natura. Padroni della natura è di nuovo una secolarizzazione di un'idea religiosa e cioè che Dio ha mandato ad Adamo il potere sugli animali. Questo era un racconto che si faceva. Però appunto, da una parte, questa è una cosa che abbiamo osservato tutti, per esempio, durante la pandemia. E' interessante notare che persino il Papa non ha fatto nessun tentativo di teodicea. La teodicea, come sapete, era la giustificazione del fatto che, pur essendo così buono, Dio può permettere dei mali, eccetera. Giustificazione di Dio. Per esempio, quando c'è stato proprio in quegli anni in cui i due si scrivono il terremoto di Lisbona, c'è stato Voltaire che ha fatto un poema sul terremoto di Lisbona, facendo vedere che era falsa la teodicea. Perché? Cos'era successo? Uno diceva che un terremoto succede, però a Lisbona c'era una caratteristica. Il terremoto ha avuto luogo di domenica. I cristiani erano tutti in chiesa, le chiesi si sono incendiate, i cristiani sono andati giù in basso e lì sono stati colpiti dallo tsunami. C'era un quartiere islamico, lì ovviamente non erano andati in chiesa, erano stati a casa loro, non gli è successo niente. Quindi sembrava una peculiare malizia, selettività di Dio che andava proprio a... ovviamente anche Rousseau interpretò questo fatto del terremoto di Lisbona vedendoci la malizia della tecnica, perché dice se l'avidità non avesse spinto le persone a costruire delle case così alte per poter... non sarebbe stato così grave il fatto. Ognuno la interpreta come vuole, però il punto è che adesso, quando c'è stata la pandemia, ripeto, neanche il Papa ha detto come può Dio e adesso vi spiego perché Dio resta buono nonostante ci abbia tirato questo virus addosso. La spiegazione, per esempio quando c'è stata quella grande cerimonia in piazza San Pietro, due mesi dopo l'inizio della pandemia, è stato che la nuova Dea, cioè Madre Natura, Dio è morto ma c'è una nuova Dea che si chiama Madre Natura, che è stata violentata e chi si sta vendicando su noi degli abusi che noi abbiamo fatto alla natura. Questo ha detto il Papa. E questo fa riflettere perché da una parte c'è qualcosa che non torna. Quale sarebbe stato il peccato commesso dagli uomini? Della fattispecie sarebbero stati dei cinesi ingordi che si sono mangiati dei pipistrelli. Però supponiamo che dei pipistrelli avessero mangiato dei cinesi. Vendetta della natura anche lì? Cioè anche in quel caso la natura si sarebbe vendicata? Ovvio che no. Né per una cosa né per l'altra. E oltretutto coloro che dicono che noi dobbiamo salvare il pianeta sbagliano il bersaglio perché il pianeta andrà avanti per millenni con forme di vita e che aspettano soltanto che noi ci togliamo di mezzo per affermarsi, vivere, crescere e poi certo morirà di caldo ma questo avverrà quando il sole espandendo si mangerà tutto. Noi quello che dobbiamo fare è tutelare l'ambiente adatto agli umani, alla forma di vita umana e altre forme di vita funzionali alla forma di vita umana. Per esempio non siamo stati tanto favorevoli a forme di vita come i bacilli, abbiamo cercato di, che pur sono forme di vita, però invece abbiamo cercato di evitare la trasmissione dei bacilli. Allora quindi dire dobbiamo salvare il pianeta e dice guarda se devi spararla grossa sparla davvero grossa, dobbiamo salvare l'universo così almeno hai uno scopo veramente grande nella vita. Invece noi dobbiamo salvarci dalla natura che in particolare in questo momento a causa del nostro comportamento però non si rivela violentata, si rivela potentissima. I nuovi tipi di uragani o la diffusione di virus dipende essenzialmente dal fatto che ci sono dei cambiamenti ambientali, c'è una comunicazione permessa dalla tecnologia molto più forte e molto più rapida fra gli umani, quindi si disfondono molto meglio queste cose. Ma questa immagine antropomorfa di una natura debole che noi dominiamo e conculchiamo e che si rivolta verso di noi è un'immagine del tutto inconsistente perché dapprima suppone che noi siamo i padroni dell'universo e poi dice che questi padroni non lo sono per niente, non lo sono affatto. Lo stesso vale per l'altro argomento molto diffuso che nel suo presupposto trova l'origine russo, cioè la tecnica cattiva e ha una specificazione tutta novecentesca secondo cui la tecnica è la nostra padrona. sicuramente avrete sentito ma sono persone, adesso non voglio trovare un solo discorso di un grande filosofo, Umberto Galimberti, che non vi dica siamo schiavi della tecnica, decide lei per lui eccetera eccetera eccetera. Galimberti lo dice anche perché è stato allievo di un altro grande filosofo, Emanuele Severino, il quale diceva che la tecnica ci comanda, ci descrive un destino eccetera, la follia dell'Occidente, la tecnica. Sebbene Severino sostenesse che era Heidegger che aveva preso l'idea da lui leggendo la sua tesi di laurea, da detto, notare che Heidegger non parlava l'italiano, e poi cosa si mette a leggere la tesi di laurea di Severino? La verità più plausibile, più banale è che Severino l'aveva presa da Heidegger, perché effettivamente in certe conferenze tenute a Brema nel 1949, Heidegger poi sono state raccolte e modificate in qualche punto, perché Diger spavorava grosso, per esempio aveva detto fra tutti i mani della tecnica, ma anche i campi di sterminio, sono delle cose brutte tipo l'agricoltura meccanizzata. Non ci sono più i contadini una volta e la gente viene ammazzata come in industria, bisognerebbe fare degli omicidi come una volta. Non so bene quale fosse l'altra ipotesi che stava sviluppando, comunque in queste conferenze a Brema dice che c'è il gestel, l'imposizione della tecnica, che fa sì che gli umani obbediscono al comandamento della tecnica, che diventa ciò che dà i fini agli umani, e che di conseguenza solo un Dio ci può salvare, dice Heidegger, questo però è la conferenza dello Spiegel del 1966, cioè l'umano non si può salvare da solo perché è già schiavo della tecnica. In questo regresso genealogico da Galimberti a Severino a Heidegger manca ancora un pezzo, ed è Albert Speer, cioè il ministro degli armamenti del Terzo Reich. Nel 1945, come sapete, lui viene arrestato come tutti i principali gerarchi nazisti, e nel 1946 viene portato a giudizio a Nuremberg. Essendo un uomo di grande intelligenza, di grande cultura e di grande sensibilità, oltre che di sviluppato senso artistico, ma questo è ancora un altro discorso, grande intelligenza che cosa fa? Quando gli chiedono all'inizio se si dichiara colpevole o innocente, lui dice mi dichiaro colpevole, e con questo si ingrazi i giudici, mentre gli altri, figuriamoci, si dichiaravano colpevoli, sono innocente, anzi siete voi che... faccio vedere io. Poi, dopo essersi dichiarato colpevole, fa la sua dichiarazione finale, prima del giudizio, inizio settembre del 1946, fra l'altro la si può trovare nell'autobiografia di Speer, letteralmente si trova anche su YouTube, tipo per esempio uno mette Speer Final Declaration, e trova Speer che fa questo discorso in Orinberga, comunque lo riporta anche nella sua autobiografia, il discorso è questo. Certo, sono colpevole, ma il problema è come si dice a monte, perché la Germania era il primo Stato con una tecnologia talmente perfetta che poteva imporre a qualunque umano di eseguire gli ordini, e si creava con questo questa nuova figura dell'esecutore degli ordini che è stato... Allora, è lo stesso discorso che fa Severino, Heidegger, Garimberti. Heidegger qualche problema col nazismo, più che qualche ce l'ha avuto, ma Severino e Garimberti non si capisce per quale motivo debbano assumere come verità evidente quella che è semplicemente un abile discorso di difesa di un alto gerarca nazista, perché quell'idea che la tecnica imponga e che poi si è portata al banale è veramente cosa, tipo che ha ucciso Cesare? I pugnali, è chiaro. Cioè c'era la statua di Pompeo, lì c'era Cesare, passano 4-5, vedono dei pugnali, e in preda al ghester della tecnica ammazzano Cesare. È una descrizione sensata? No, ovviamente, ma non è molto diversa dal sostenere che noi siamo appunto schiavi della tecnica, cioè io in questo momento sarei schiavo di questa cosa qua. Perché sono schiavo? A parte che fa quello che vuole lei. Ma indipendentemente da questo, io l'ho comprata, l'ho pagata a fior di patrini perché mi è molto comodo e risponde a dei bisogni, risponde efficacemente ai bisogni per cui l'ho presa, se no, non l'avrei comprata. Quindi, se noi prendiamo l'esempio dell'umano di Rousseau, è un essere perfetto e poi appunto circondato dalla tecnica e dalla società che lo corrompono. Quanto più vai avanti nella tecnica e nello sviluppo sociale, tanto più ti allontani dall'origine, cioè dalla natura, tanto più diventi corrotto. Quindi di male in peggio sostanzialmente la prospettiva è questa. e se poi vogliamo mettere come ciliegina finale su tutta questa torta del declino dell'Occidente, mettiamo anche il fatto che la tecnica nel frattempo corrompe anche la nostra volontà. Ma d'altra parte era già implicito nel discorso di Rousseau, nel senso che appunto poi dopo dicevi che le malattie, tutte le malattie derivano dagli abusi della dieta, di cibi troppo sofisticati. Allora, come mi spieghi che nel corso di un secolo la vita media si sia raddoppiata? Sicuramente questa vita media è stata caratterizzata dall'abuso di merendine, cocktail, snack, junk food e tutto l'orrore che vogliamo descrivere, però comunque la vita effettivamente si è raddoppiata. Allora, che tipo di rappresentazione alternativa potremmo offrire? Bene, la rappresentazione alternativa io la vedrei in due grandi figure. Uno, dobbiamo immaginare l'umano, ecco qui mi hanno chiesto se avevo bisogno di proiettare, forse sarebbe stato utile proiettare, ma è una figura molto semplice. immaginate un cerchio con scritto sopra anima e che si interseca con un altro cerchio in cui c'è scritto automa. In mezzo c'è l'umano, cioè l'umano e l'intersezione tra l'anima e l'automa. Cosa intendo con questi termini? Anima è il fatto che l'umano è un organismo come qualunque altro e questo permette all'umano di avere qualcosa che ha tutti gli organismi, cioè l'urgenza metabolica. Noi in fondo siamo più sofisticati, quindi pensiamo che moriamo, che dobbiamo fare delle assicurazioni, che prima o poi bisogna pagare le bollette o cose di questo genere, ma per soddisfare che cosa? I nostri bisogni vitali, è questo che ci dà l'urgenza. Noi abbiamo urgenza. Immaginate appunto un computer che fra poche finì dall'elettricità. Sta male il computer? No, non sta assolutamente male, semplicemente smette di funzionare e quando riattaccheranno la spina ricomincerà a funzionare perché l'automa ha questa caratteristica, il fatto di avere delle finalità esplicite, il coltello è fatto per tagliare, quando vedi un coltello è fatto apposta per quello e di poter essere acceso e spento, diciamola così, cioè io posso adoperare un coltello, poi posso riporlo per quanto tempo voglio, poi posso riutilizzarlo, eccetera. Per un organismo è tutto diverso. L'organismo ha una finalità interna, cioè una sostanziale assenza di finalità. Noi viviamo perché viviamo. Poi certo c'è l'interpretazione che vuole dare una finalità esterna. Noi viviamo per la propagazione della specie. Ma a parte il fatto che ci sono molte persone che non si riproducono, poi però questa storia, e chi vuole che questa specie poi sopravviva? A chi interessa tutta questa cosa? L'unica evidenza è che noi siamo mossi da bisogni che dobbiamo soddisfare e che invece non hanno nessun carattere impellente per una macchina. Perché? Perché una macchina è normalmente un processo on, off, on, off, acceso, spento, acceso, spento, acceso, spento. Invece un organismo, qualunque organismo, ha solo due opzioni, o acceso o spento per sempre. C'è un caso di cui si parla di resurrezione, ma in generale è spento per sempre. Quindi questo ti dice un tempo di vita limitato, una fine e quindi delle finalità, perché bisogna per esempio soddisfare bisogni dapprima solo fisiologici, poi culturali, eccetera, eccetera, eccetera. Il concetto di tempo, per esempio, è significativo per un umano, ma lo è molto di meno per un organismo non umano e non ha nessun senso per un meccanismo. Cioè un orologio non ha il senso del tempo. Un orologio è una macchina prodotta dagli umani per poter quantificare il tempo per degli scopi che riguardano soltanto gli umani. Quindi da una parte appunto c'è meno urgenza nella macchina. Cioè non vedrete mai due computer che litigano per contendersi l'elettricità. Non importa proprio niente. Contemporaneamente c'è questo fenomeno di irreversibilità che è tipico degli organismi. Prendiate un esempio che ho fatto tante volte e chi l'ha già sentito mi perdoni, però considerate un asciugacapelli e un'anatra. Sono molto simili morfologicamente. Un asciugacapelli effettivamente sembra un'anatra e un'anatra potrebbe ricordare vagamente un asciugacapelli. Inoltre anche come funzionamento consumano energia trasformandola in calore. Lo fa l'anatra e lo fa l'asciugacapelli in una maniera più evidente. Solo che supponiamo che io abbia una casa al mare e alla fine dell'estate lascio l'asciugacapelli e poi ritorno l'anno dopo e c'è l'asciugacapelli, lo infilo. Supponiamo invece che io lì lascio un papero, un'anatra, in un cassetto dove solitamente si mette l'asciugacapelli. Quando ritorno potete immaginare la visione orripilante della cosa e non risorgerà, non potrei mai più rimetterli insieme e far sì che risorga l'anatra. L'anatra non risorge. C'era Vaucanson che faceva quelle anatre automatiche del Settecento, però appunto quelle, a parte che erano palesemente delle macchine, quelle certo, le potevi riparare quanto volevi, ma quando noi diciamo che mi è morto il telefonino, sappiamo di esprimerci in una maniera metaforica, nel senso che poi diceva portalo da un cinese e se uno gli ha morto mio nonno, portalo da un cinese. E' una cosa che... Perché cosa gli farà il cinese? Massimo lo imbalsamo, non lo so che cosa fa, o se lo mangia, perché quelli mangiano di tutto secondo la credenza popolare alla base della questione dei pipistrelli. dobbiamo quindi considerare che l'umano, come ogni altro organismo, ha delle finalità dettate dal metabolismo e dal fatto che appunto la caratteristica del metabolismo è che è appunto o acceso o spento, o vivo o morto. diversamente da qualunque altro organismo è sistematicamente connesso con dei meccanismi, tra l'altro prodotti tutti dagli umani. Pensate, i nidi, le dighe dei castori, ma poi fra l'altro i castori non usano le dighe come dighe, le usano come abitazioni, quindi manco dire che gli serviva per delle questioni di irrigare lì intorno. I castori non sono coltivatori. Allora, diversamente da qualunque altro animale, l'organismo, l'animale umano produce dei meccanismi. Tutto quello che vedete qua intorno, tutti questi artefatti, tutte queste cose, sono state prodotte per rispondere a dei bisogni umani. Infatti, qui sto seduto, lì c'è il bicchiere per l'acqua, tutte queste cose stanno tutte insieme. La cosa interessante è che a questo punto, quindi è il contrario di quello che diceva Rousseau, cioè noi diventiamo umani proprio nella misura in cui l'organismo animale che noi siamo interagisce con una serie di meccanismi tecnosociali e infatti se non ci insegnano da bambini a camminare a due zampe restiamo a quattro zampe. Infatti i bambini devono imparare e imparano perché sono costretti dagli adulti, nulla li spinge di per sé ad alzarsi. Se non insegna a parlare a un bambino quello non parlerà perché c'è verso è un'altra cosa se non gli insegna a scrivere tutto questo sono delle tecniche che vengono trasmesse e che rendono l'umano più umano e non meno umano. Se io infatti insegno per esempio diceva Kant l'uomo è l'unico animale che può essere educato ed è vero nel senso che se io insegno a un cavallo a fare delle evoluzioni in un circo lo trasformo più o meno in un pagliaccio non è più cavallino se sa fare anche le evoluzioni mentre se io insegno a un bambino a scrivere lo rendo più umano quindi effettivamente diventa qualcosa di più simile a questo processo inconcluso che è per l'appunto il divenire dell'essere umano. In questo incontro tra un sistema di organismi e un sistema di meccanismi sviluppa una una sinergia interessante nel senso che l'anima cioè ciò che è organico in noi detta i fini detta i tempi detta le necessità per rispondere alle nostre insufficienze perché probabilmente nulla garantisce che gli umani senza tecnica per esempio sarebbero usciti dall'Africa perché fa freddo fuori e allora devi per forza usare una pelle per coprirti nessun animale lo fa perché l'animale resta nel suo habitat e quindi sarebbero rimasti in Africa e in Africa magari si sarebbero estinti perché erano pochi erano cose eccetera non sono neanche tanto forti quindi questo spostamento è stato reso strettamente parlando possibile soltanto dalla tecnica bene allora l'umano risponde ai propri bisogni non per semplice evoluzione naturale come tutti gli altri organismi ma anche per evoluzione tecnoculturale e questo fa sì che l'evoluzione sia tanto più rapida nel senso che ovviamente come organismi noi siamo più o meno la stessa cosa degli esseri umani di diecimila anni fa come invece esseri sociali e esseri tecnologici siamo radicalmente diversi ma anche soltanto da noi stessi trent'anni fa quindi c'è questa evoluzione che crea ecco vedi no non l'hai capito che crea questo questo problema appunto dell'adattamento culturale noi in quanto umani siamo soggetti a degli shock culturali gli animali non sono soggetti a degli shock culturali non è che devono un animale fuori moda che senso ha un coniglio non up to date è una cosa che non ha senso mentre ha tutto senso possibile per l'umano quindi hai l'organismo che detta l'obiettivo il meccanismo che lo realizza e conferisce dei nuovi sensi vi spiego l'idea di che ne so diventare ammiraglio un'ambizione come tante ovviamente non può succedere intervenire in un essere umano nello stato di natura perché perché non ci sono navi non ci sono flotte non ci sono strutture statali e quindi non c'è neanche il posto da ammiraglio e quindi non avrebbe senso pensare di diventare ammiraglio se tu vuoi diventare ammiraglio poeta serial killer o qualunque altra rispettabile o poco rispettabile attività umana è perché a questo punto oltre alla finalità interna che tu hai come qualunque altro organismo si sono aggiunte per via del dispositivo tecno sociale tantissime finalità esterne voglio andare in vacanza per esempio quest'anno potremmo andare lì dove andiamo a cena stasera tutto questo genere di domande sono tutte domande che vengono fornite dalla dalla tecnologia e dalla società non sono non stanno dentro a noi e proprio per questo mi inviterei a riflettere gli esseri umani sono gli unici che possono porsi una domanda tipo che senso ha oppure non c'è più tempo perché che senso ha un gatto che dice ma che senso ha l'esistenza vasto è poco plausibile un telefono che si chiede che senso ha anche lì è poco plausibile fra l'altro il senso è tutto evidente per una serie di finalità mentre l'umano è quell'organismo che in un sistema tecnosociale può trovarsi per esempio di fronte all'assenza di senso cosa che per un organismo non umano non si dà quando appunto Nietzsche diceva che l'uomo è un animale malato e poi diceva che l'uomo è un animale non ancora stabilizzato nel senso che non ha ancora trovato la sua forma e non la troverà mai perché ovviamente siamo in un continuo processo evolutivo un animale malato malato sì perché gli animali normalmente non si pongono i problemi non vanno alla ricerca di senso e dunque non sono esposti per esempio allo scacco del non senso così pure di nuovo il tempo stessa cosa nel senso che eh eh persino nell'esperienza umana quale può essere censita dalla storia il tempo è progressivamente cambiato e ha cresciuto il proprio valore a misura che degli apparati tecnologici hanno permesso di misurarlo cioè eh sappiamo bene come nelle società tradizionali si dicono hanno il senso del tempo c'è sempre questa cosa che dice abbiamo eh ci sono ci sono certe società agricole in cui si vive secondo i ritmi della natura e cose di questo genere oppure ci sono certe civiltà che eh se dai appuntamento alle sei e mezza quello arriva alle otto non si scusa neanche perché tanto non pensava che fosse importante quanto più diventi invece fine e eh articolato l'impiego del tempo e la misura del tempo tanto più qualcuno può dire non c'è più tempo eh non ho più tempo eh cosa che invece allo stato di natura non ho più tempo cosa vuol dire non ho più tempo per cosa eh non avrebbe non avrebbe nessun senso dirlo quindi ehm appunto sebbene eh Rousseau effettivamente fa venire voglia di eh camminare a quattro zampe sconsiglio a chiunque di voi di provare questo esperimento non penso dall'altra parte che nessuno di voi avrebbe desiderato in seguito andare a provare questa cosa delle quattro zampe vi sconsiglio di andare nel Canada del diciottesimo secolo perché tutti molti di noi hanno un'età che richiede dei medici un po' più efficaci eh e voilà questo era il senso di eh di questo tentativo di terapia rivolto nei confronti della sindrome di Rousseau grazie 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 a tutti